Eccola qua, Rita buonasera. Salve, buonasera. Allora, Rita Mazzotti, lei fa la ristoratrice, l'abbiamo conosciuta la scorsa settimana. Lei aveva detto, io voglio rimanere aperta, ma non avete paura delle multe? Guardi, mi ricollego a quello che ha detto anche la Morani, così la rispondo nel frattempo. E poi era Morani. Noi dobbiamo ringraziare il supporto e la tutela dell'avvocato Sarno per le riaperture. E con il quale stiamo intraprendendo una class action, perché questa per noi è una legislazione assolutamente contraddittoria. Ci hanno illuso, ci hanno fatto investire per poter mettere in sicurezza i nostri locali. E ci hanno anche rassicurato che avremmo poi lavorato. Sono passati 14 mesi, non è cambiato nulla. Dicono di aver parlato con Confesercenti, con Confcommercio, ma con noi no. Con noi non parlano, quindi per noi questo non è dialogo, è un monologo. Noi non abbiamo risposte, non abbiamo colloqui. E di conseguenza, grazie anche all'avvocato Sarno, che veramente ci sta aiutando tantissimo. Ma come siete andati avanti in questi mesi? Scusi Rita, come siete andati avanti con i soldi? Voglio capire questo. Indebitandoci. Ci siamo indebitati fino al collo. Ma con chi? Perché anche quello è l'altro rischio. Esattamente. Ci siamo indebitati con le banche. C'è chi ha dovuto purtroppo scendere a compromessi. Qui a Salerno ci sono attività che non hanno potuto riaprire, perché non avevano le risorse economiche per poter ripartire. E questo è un danno, non solo economico, un danno morale. Perché le persone non possono arrivare a fare cose che non avrebbero mai pensato in vita loro, per poter riaprire l'attività nella quale hanno, in pratica, messo la vita. Qual è la storia peggiore che ha sentito? La storia peggiore che ha sentito è di una donna, di una madre, che piangendo con le lacrime agli occhi mi ha detto che si sarebbe dovuta impegnare la fede di matrimonio per poter pagare una bolletta perché le avevano staccato il gas. Io non avevo parole. Io non sapevo come confortarla. Perché per me questa è una cosa impensabile. Mi sono venuti brividi. Io non posso pensare che possano succedere cose del genere. E non posso pensare, tra l'altro, a cosa è dovuta arrivare questa donna, questa madre, per poter solo pagare una bolletta. Allora, le faccio vedere Enzo Cappas.